Buonasera, siamo tornati in diretta come di consueto lunedì lo dedichiamo a Primo Cittadino il programma di Fano TV insieme ai sindaci della provincia di Pesaro Urbino e non solo do il benvenuto a Gabriele Bonci, sindaco di Fossombrone, bentornato nei nostri studi Grazie, buona certe a tutti i telespettatori Ricordo ai telespettatori che possono intervenire in diretta telefonando lo 0721 86 14 33 oppure potete inviare messaggi anche con whatsapp al 338 49 68 250 Sindaco, abbiamo visto anche nel tardo pomeriggio di oggi una protesta a Pesaro di ristoratori che chiedono aiuti e non chiusure, sit-in che si stanno susseguendo in questi giorni Lei ha avuto modo di ascoltare un po' il parere o le difficoltà degli esercenti del comune di Fossombrone? Non direttamente, però è chiaro che la situazione si percepisce quindi io comprendo benissimo il malessere, il malumore di queste categorie fortemente penalizzate dalle attuali normative è altrettanto vero che la situazione purtroppo è seria e seria sta peggiorando per cui evidentemente delle mosse vanno fatte è chiaro che chi deve decidere si assume sempre la responsabilità di dover intervenire a tutela della salute principalmente e di conseguenza purtroppo a scapito di quelle che sono le attività economiche trovare l'equilibrio è veramente difficile è chiaro che sono stati stanziati dei fondi importanti da ristorare le attività che sono vittime di queste restrizioni tra l'altro ce ne sono alcune nuove che usciranno probabilmente domani con il nuovo DPCM E poi le commenteremo insieme Ok, però ecco, chiaramente da un punto di vista umano l'anno tutta la mia solidarietà, comprendo benissimo le difficoltà è chiaro che queste non devono scivolare poi in atti vandalici come abbiamo visto in grandi città perché poi lì si passa dalla ragione al torto e del resto sono misure che mi pare vengono adottate un po' in tutti i paesi d'Europa per affrontare la pandemia per cui è veramente molto molto complicato qualsiasi cosa si faccia rischia comunque di avere delle conseguenze Il Presidente del Consiglio appunto ha illustrato in Parlamento le nuove restrizioni anti-Covid necessarie prima di mercoledì ha dichiarato regioni divise in tre aree di rischio e limiti alla circolazione in tarda serata il Governo prevede a livello nazionale la riduzione al 50% del limite di capienza dei mezzi pubblici locali la chiusura dei musei lo stop dei centri commerciali nei fini settimane ma anche un coprifuoco serale appunto scuole di secondo grado in didattica a distanza tra l'altro un'ora fa circa anche il Presidente Acquaroli ha firmato un'ordinanza per questa didattica a distanza anche per le università per la formazione professionale così come la riduzione della capienza al 50% per i mezzi di trasporto pubblico locale è d'accordo con queste ulteriori restrizioni? Beh diciamo come dicevo poco fa sicuramente chi deve decidere è un grosso fardello immagino non vorrei essere nei panni del Presidente Conte o di chi per lui decide queste misure è chiaro ribadisco che qualcosa va fatto perché la situazione sta peggiorando e le chiedo a proposito anche qual è la situazione a Fossombrone ma guarda per fortuna non lo voglio dire troppo forte io tutti i giorni pubblico i dati relativi alle persone in quarantena nel nostro comune e da pochi giorni riesco a vedere anche quelli che sono effettivamente positivi cosa che fino a pochi giorni fa non riuscivo a visualizzare questa mattina se non erro erano 19 persone in quarantena di cui 6 positivi per cui quei numeri ancora sono abbastanza confortanti non lo dico troppo forte sperando che la situazione si mantenga però vediamo che in giro insomma l'aria è sicuramente non rassicurante come dicevo ecco sono misure temo necessarie del resto sono le stesse che stanno prendendo gran parte dei paesi europei misure volte fondamentalmente a far sì che la gente si sposti il meno possibile perché quello che è l'unica cosa certa è che più stiamo a casa e meno rischiamo di incontrare la malattia quindi ecco ribadisco trovare un punto di equilibrio tra quelle che sono le esigenze di chi lavora di chi ha soprattutto attività e chi invece deve tutelare la salute però penso che in questo momento l'obiettivo sia quello di non portare al collasso il sistema sanitario i dati ribadiscono non tanto nel nostro comune ma in generale non sono sicuramente confortanti è una malattia che poi leggo tanti post su facebook o tanti altri articoli sull'indice di mortalità che può essere più o meno quello che vedo è che però è una malattia che si diffonde molto velocemente e colpisce tante persone in poco tempo cosa alla quale non eravamo abituati per cui mentre una normale influenza si spalmava nell'arco di qualche mese questa in pochissimi giorni contagia migliaia di persone per cui il rischio è che veramente il sistema sanitario vada al collasso è quello il timore che muove anche i nostri governanti quindi ribadisco sono misure dolorose difficile giudicare l'altra volta probabilmente hanno avuto un impatto positivo visto che poi c'è stato un calo forte dei contagi nella primavera e nell'estate ecco io quello che penso più che altro però secondo me quello che forse è mancato in questi mesi estivi è stato un controllo forse di quello che stava accadendo ad esempio una cosa sulla quale io personalmente non sono stato d'accordo quello della possibilità di andare all'estero in vacanze io sinceramente l'avrei impedito le misure più restrittive vista la situazione la riapertura delle discoteche che poi è stata ritolta dopo pochissimo tempo per cui forse quest'estate qualcosa andava fatto in termini di maggiori controlli e oggi purtroppo di nuovo siamo in piena emergenza per cui sicuramente dobbiamo tenere sotto controllo i contagi e fare ogni atto possibile per tenere sotto controllo appunto il numero e come ha detto prima la nuova ondata di contagi sta mettendo un po' sotto pressione il sistema sanitario i ricoverati, sto parlando a livello nazionale, oggi hanno superato quota 2000 i reparti di terapia intensiva negli ospedali italiani si avvicinano alla soglia di criticità e la disponibilità di posti letto sarà a rischio tra un mese in varie regioni questa è una notizia che ha battuto l'ANSA poco fa l'allerta anche sulla base dell'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute arriva dal Premier Conte mentre gli anestesisti e i reanimatori denunciano che ormai i medici non bastano più a coprire i posti letto aggiuntivi in tali reparti chiedono anche più assunzioni subito a partire dagli specializzanti vorrei far vedere delle foto perché nei giorni scorsi lei ha fatto una visita insieme all'assessore regionale eccola qua, Marta Ruggeri se non sbaglio venerdì sabato è una visita recente e ha fatto un sopralluogo nell'ospedale di comunità c'era stata un po' di preoccupazione sulla possibile riconversione dell'ospis in una struttura per pazienti Covid eccetera qual è la situazione? vogliamo fare il punto per chiarire? bisogna fare un po' di chiarezza perché forse anche sui giornali la cosa non è stata ben specificata nel senso che il nostro ospedale a marzo è stato convertito in un ospedale Covid che ha ospitato 26 pazienti in fase post-acuta da Covid e questi 26 posti letto sono stati ricavando e sacrificando quella che è la normale dotazione dell'ospedale cioè 30 posti di cura intermedia e 10 posti di riabilitazione estensiva e l'ospis in questo caso non è stato direttamente coinvolto dalla prima conversione e quello che io ho chiesto formalmente alla regione tramite una lettera che ho inviato tra venerdì e sabato una pecca alla giunta regionale è quella di non utilizzare la nostra struttura per pazienti Covid visto che abbiamo già dato sostanzialmente come ospedale di comunità o nel caso fosse assolutamente necessario ospitare alcuni pazienti di trovare soluzioni alternative diverse dalla prima volta in cui ripeto sono stati soppressi i due reparti che normalmente operano e in questo discorso si inserisce il discorso ospice perché sai probabilmente che sono in corso finalmente lavori di ampliamento dello stesso reparto che passerà da 10 a 20 ricordo che il nostro ospice è l'unico nella provincia ed uno dei pochi a livello regionale che cura pazienti non solo oncologici per cui sono anni che aspetto cure palliative per malati di SLA o malattie neurodegenerative per cui è assolutamente importante che vengano raddoppiati i posti il timore è che una conversione di nuovi in ospedale Covid possa in qualche maniera intranciare questi lavori e allungare ancora i tempi di realizzazione per cui ecco il Covid l'ospice non sarebbe oggetto di riconversione però verrebbe comunque coinvolto in questo stravolgimento legato al Covid ripeto l'altra volta non ho posto alcuna resistenza eravamo in piena emergenza ci ha travolti come uno tsunami per cui tutti abbiamo dovuto fare la nostra parte siccome ribadisco che abbiamo già dato qualche mese fa sono passati alcuni mesi in cui probabilmente andava organizzata ci si doveva organizzare meglio forse dal punto di vista sanitario anche se è facile dirlo forse un po' meno farlo però questa seconda ondata del resto era ampiamente prevista dagli esperti quindi ecco la mia richiesta è che Fossombroni venga risparmiata questa volta dalla gestione dell'emergenza nel caso in cui questo non fosse possibile di valutare qualsiasi soluzione che preveda appunto la salvaguardia dei servizi attualmente in essere perché poi in realtà non c'è solo il Covid ci sono pazienti che hanno bisogno di riabilitazione di cure intermedie quindi non possiamo sacrificare tutto il nostro sistema sanitario ad affrontare un'emergenza per quanto grave essa sia Le vado a leggere un messaggio Sindaco ha dichiarato di aver richiesto alla Regione di non utilizzare per malati Covid l'ospedale di Fossombroni ma lei ha conoscenza che da oggi i malati o positivi Covid-19 dalle 12.30 alle 14.30 sono stati dirottati a servizio radiologia di tale ospedale e ha conoscenza che i malati Covid si mischiano nel corridoio per raggiungere la radiologia insieme agli altri pazienti inconsapevoli siamo veramente sconcertati Allora vorrei fare una premessa io credo che lei abbia un'opposizione bella guerrita Fossombroni perché già prima di andare in onda ci sono arrivate decine di messaggi dalle stesse persone per cui insomma il dubbio un po' ci viene logicamente alcuni di questi messaggi li leggeremo però dobbiamo dare spazio anche a tanti altri cittadini che giustamente ci stanno facendo delle richieste quindi vorrebbero sapere da lei anche informazioni sugli asfalti piuttosto che del bidone sotto casa, delle frani eccetera quindi sicuramente daremo spazio a queste persone certo è che una segnalazione di questo genere forse dovrebbe essere fatta anche alle autorità sanitarie lei però che cosa ne pensa? Guarda io di questa cosa ho appena avuto notizia anche oggi pomeriggio anche perché è il primo giorno in cui si è verificata questa situazione e ho chiamato subito i medici e dirigenti in cui mi hanno spiegato che oggi in realtà è iniziato appunto questo servizio che riguarda la diagnostica per persone non dichiaratamente positivi ma diciamo in attesa di magari che hanno fatto il tampone in attesa di esito che devono fare altri accertamenti potrebbero essere anche positivi non necessariamente lo sono effettivamente questo ingresso che pratica l'ingresso principale ho chiesto anch'io di separare le due cose cioè da chi entra o esce per altri motivi da chi invece viene portato appunto nella diagnostica risonanza TAC, RX eccetera per potenziale Covid ho parlato proprio nel primo pomeriggio con un dirigente mi ha detto stanno studiando un ingresso alternativo per cui mi auguro che se solo oggi forse al massimo domani però dovrò prendere poi i provvedimenti Le chiedono chiuderanno le scuole qua a Fossombrone? Forse sono un po' preoccupati Magari è un ragazzo che invece non vede l'ora non lo so, chiaramente non dipende da me questo Buonasera a tutti, vorrei chiedere a Sindaco Bonci se vista la scarsa incidenza del virus nei comuni di Fossombrone ci può essere anche la possibilità di tenere aperti i locali anche in orario serale? No, non nel senso che per quelle che sono le attuali C'è un provvedimento anche a livello regionale, nazionale quindi il Sindaco può? No, sono d'accordo che non tutte le scelte vadano applicate alla stessa maniera in tutto il territorio non uniforme, sono d'accordo sul fatto che vadano individuate le zone più a rischio e presi provvedimenti diversi a seconda del livello della pandemia diciamo così però il discorso degli orari non può essere una scelta che aspetta al Sindaco io come Sindaco potrei fare ordinanze più restrittive rispetto a quelle nazionali non sicuramente più liberali diciamo così per cui escludo questa possibilità Continuiamo a leggere un po' di messaggi il bocciodromo comunale dopo quattro anni rimane un incompiuto l'anno scorso sempre qua ascoltavamo il Sindaco dire che fosse in prossimità di fine lavori può essere quest'anno un po' più preciso quindi su quando e come finirà l'opera? Sì, questa è una cosa che ci trasciniamo effettivamente da troppo tempo questo è vero premetto che l'ultimo anno l'attività è stata veramente condizionata dal Covid non è un luogo comune non vuole essere un alibi però capisci bene che gestire una situazione di questo genere a livello sia politico che amministrativo non è sicuramente una passeggiata per cui effettivamente gli ultimi mesi sono stati sacrificati sull'altare dell'emergenza i lavori lì da parte del comune sono praticamente terminati dobbiamo mettere un bando per vedere se ci sono persone interessate alla gestione del locale a finirlo dal punto di vista logistico e poi avere un'attività è chiaro che anche qui visto il periodo le cose potrebbero richiedere insomma non so quante persone potrebbero essere interessate oggettivamente in questo momento ad un investimento del genere però magari è proprio nei periodi di difficoltà che chi vuole forse può trovare anche l'occasione per un investimento prima o poi questa situazione ci auguriamo che finisca Quali investimenti e progetti avete realizzato per la foresta di Magnale Cesani? Oh questa oggettivamente ci manca nel senso che su questo argomento devo dire la verità non siamo riusciti a portare avanti progetti significativi nel senso che abbiamo allacciato contatti con gli altri comuni per esempio mi riferisco a Urbini, Isola del Piano direttamente interessati tra l'altro il presidente Paolini è molto sensibile su questo lato visto che lo riguarda anche come amministratore del comune di Isola del Piano però ecco quella è una risorsa che va effettivamente valorizzata è una risorsa naturale tra l'altro oggetto anche di biker in questo periodo di appassionati di ciclismo, di trekking per cui è una cosa sulla quale dovremmo effettivamente lavorare oggettivamente ad oggi un progetto concreto ancora non l'abbiamo messo in atto su questa zona è stato onesto in questo caso è apprezzabile come pensate di portare i turisti a Fossombrone quando la città si presenta in condizioni pietose in termini di pulizia e di igiene? c'è questa situazione di degrado? Oddio io sinceramente vedo Fossombrone come una città mediamente pulita o mediamente sporca a seconda di come la si voglia vedere non credo che sia particolarmente sporca rispetto ad altre città probabilmente non è Bolzano oggettivamente però ecco ribadisco non vedo neanche una situazione disastrosa come vediamo a volte in ITG di scarica ce l'ha aperto tra l'altro su questo argomento voglio qui spezzare una lancia a favore del gruppo Puliamo Fossombrone un gruppo di ragazzi volontari ai quali a volte mi unisco anch'io quando riesco che almeno una volta al mese fanno un giro della città questo è un segnale importante magari quei quattro sacchi che vengono raccolti sono più un simbolo che altro però vedo che insomma la gente comincia da questo punto di vista ad essere un pochino più attenta anche nell'evitare del gettare la cartaccia per terra insomma negli ultimi settimane le raccolte sono state un po' meno ricche vuol dire che almeno da quel punto di vista il messaggio sta passando rimaniamo sempre un attimo in tema di Covid perché vorrei chiedere che tipo di aiuti economici avete predisposto per aiutare le imprese le attività ne parlavamo prima di questi sit-in sicuramente degli aiuti che sono stati previsti anche a livello regionale e nazionale però il comune anche dal punto di vista delle tasse sì noi siamo intervenuti in particolare per quel che riguarda la Tari sul discorso Tari abbiamo stanziato 250 mila euro di cui 200 a favore delle partite IVA che vedranno ridotta già d'ufficio la loro bollettazione chiaramente per quelle partite IVA con codice Ateco che è stato soggetto a restrizioni quindi mi riferisco a bar, ristoranti eccetera o anche comuni negozi che comunque sono stati oggettivamente chiusi durante il primo lockdown e quindi loro vedranno direttamente la bolletta ridotta intorno di circa un 30% 30-35% più o meno un terzo mentre per quel che riguarda le famiglie abbiamo stanziato altre 50 mila euro invece in quel caso devono partecipare a un bando le domande sono ancora aperte per famiglie con un ISEI non superiore ai 25 mila euro fanno ancora in tempo? sì ancora non è scaduto se non ricordo male adesso non vorrei dire una sciocchezza non so mi pare che i termini comunque sono sul sito eventualmente non ricordo non vorrei sbagliarmi se fosse il 31 ottobre la scadenza ecco questo da verificare comunque tutte le informazioni le trovo sul sito del comune sul sito abbiamo il corso di Garebaldi tanto bello però pieno di buche specialmente dal municipio a Via Roma tutte un po' rattoppate si può fare qualcosa per migliorare la situazione questo è vero il corso Garibaldi è disastrato non da ieri nel senso che anni fa era stato progettato come un'isola pedonale permanente poi per vari motivi è stato riaperto al traffico e questo ha causato indubbiamente un dissesto importante di tutto il corso non solo del tratto che riportava il messaggio ma di tutto il corso forse effettivamente quello più disastrato è quello che va dal comune in avanti verso Via Roma lì c'è un progetto sul quale cominciamo a lavorare se dovessimo andare avanti nella nostra amministrazione è chiaro che tutto il rifacimento dell'intero corso è una cosa che andrebbe presa in considerazione si tratta di un lavoro importante ma qualcosa va fatto Sindaco dopo l'apertura di Corso Garibaldi dopo le 18 si pensa di portare il mercato ambulante del lunedì anche in Corso Garibaldi creando un'importante opportunità economica per i commercianti presenti in centro storico Fausto Baldarelli della CNA che ci segue sempre lo saluto ci siamo sentiti più volte anche durante il lockdown in videoconferenza ogni tanto ci incontriamo questo è un argomento che ci interessa tra l'altro era una delle idee durante la campagna elettorale di 4 anni fa nella quale vedo che ci sarebbe piaciuto riportare il mercato lungo il corso e ci stiamo lavorando concretamente c'è un progetto in corso lì l'unica criticità diciamo è dovuta alla sicurezza principalmente perché nuove normative prevedono che vengano lasciati degli spazi importanti per consentire l'accesso dei mezzi di soccorso mi riferisco ad ambulanze medici dei vigili del fuoco mezzi dei vigili del fuoco per cui non tutto il corso consente il transito di questi mezzi però diciamo spalmare il mercato almeno in parte il corso potremmo sfruttare piazza Petrucci se non piazza Dante stiamo lavorando su un progetto volto in quella direzione Sindaco ci chiedono anche delle precisazioni su questa fioriera mobile che ha sollevato qualche polemica ha speso i 14 mila euro utilizzata meno sì è una sbarra mobile che abbiamo messo proprio sotto il municipio qui c'è la foto per impedire che le auto venissero contro mano cosa che succedeva devo essere nesta l'abbiamo presa dal profilo di Chiara Billi perché lui è sempre molto attivo su questo argomento e tanti altri quindi Michele l'abbiamo rubata tra virgolette non ho dubbi sulla sua reattività su queste cose questa fioriera era stata creata per impedire appunto l'accesso contro mano durante le ore serali che si verificava spesso specialmente con ripeto durante le ore notturne al momento abbiamo deciso la riapertura del corso questo anche alla luce della situazione emergenziale per venire incontro a quelle che sono le esigenze delle attività un'ultima la variazione che abbiamo fatto pochi giorni fa di riaprire il traffico alle 18 anche durante i festivi mentre prima era isola pedonale almeno durante il fine settimana proprio perché lungo il corso ci sono alcune attività ristoranti, pizzerie, bar che sono chiusi al pubblico ma possono effettuare l'asporto o il domicilio quella sbarra comunque non sarà inutilizzata ripeto sperando che questa pandemia prima o poi finisca anche durante il corso ci saranno eventi e vanno presidiati anche dal punto di vista dell'antiterrorismo e dell'antisfondamento per cui quella sbarra prima o poi sarà riutilizzata e speriamo anche di rivedere presto tutta l'iniziativa a favore dei commercianti il forum shopping e poi la magnifica atmosfera del Natale buonasera scrivo per sapere dell'impianto Bitumi che verrà installato a Ghilardino dall'incontro con la cittadinanza che si è tenuto a fine anno 2019 era emerso che l'impianto per la produzione Bitumi fosse antecedente il 2006 quindi non rispondente alle ultime normative in materia di inquinamento ambientale si può sapere che impianto verrà installato se nuovo oppure usato? dunque io adesso non conosco nei dettagli sinceramente che tipo di impianto posso dire che per quel tipo di attività sono previste tutta una serie di normative molto stringenti da parte degli organi deputati mi riferisco alla provincia l'ARPAM per cui sono strettamente controllati da quelle che sono le emissioni e via dicendo da quello che appunto l'impatto ambientale come dico sempre non parliamo di una centrale nucleare questo deve essere chiaro quindi la riscosità è veramente ridotta al minimo proprio in virtù di quelle che sono le normative stringenti che riguardano quel tipo di attività per cui chi fa quel tipo di attività fa un investimento sicuramente il primo che deve avere a cuore la sicurezza le emissioni e via dicendo quindi ecco ripeto non so nel dettaglio che tipo di impianto però dovesse essere realizzato chiaramente sarà completamente a norma perché sindaco il bidone della plastica in via Rossini è stato aggiunto mentre quello degli sfalci ancora non si vede vorrei chiarezza se possibile e le augurano anche una buona serata sì grazie questo non lo so magari è sufficiente che faccia una segnalazione all'ufficio tecnico che si interfaccia con ASET vedremo di provvedere anche all'installazione di un nuovo cassonetto per il verde visto che ci siamo chiedono anche se si può avere un altro bidone del verde affiancato all'isola ecologica già esistente in via Rossini appunto sempre rimaniamo sempre in tema dunque oggi è il giorno della commemorazione dei defunti sono stati effettuati degli interventi di ordinare o straordinare manutenzione c'è qualcosa in corso o in progetto per i cimiteri beh guarda sui cimiteri vi è chiaro che prima di queste giornate è stata fatta una pulizia un pochino più approfondita visto che sono le giornate ovviamente più frequentate dell'anno per quel che riguarda i cimiteri noi l'anno scorso abbiamo realizzato circa 100 nuovi loculi nel cimitero del capoluogo il cimitero principale dove erano quasi esauriti e in programma io mi auguro entro la primavera rimango un po' vago comunque nel giro di qualche mese dovrebbero essere realizzati ulteriori loculi in alcuni cimiteri periferici che sono quelli di Calmazza di Isola di Fano ci sono 70 mila euro già stanziati per una realizzazione di circa non so 20-30 loculi per ogni cimitero per cui questo è un argomento sul quale abbiamo lavorato devo dire che su questo settore abbiamo trovato una situazione molto critica il settore cimiteri e a mio avviso per quanto i tempi sono comunque impegnativi abbiamo fatto tanto non solo dal punto di vista delle realizzazioni di nuovi loculi ma anche dal punto di vista ad esempio abbiamo recentemente fatto un censimento per capire quali loculi fossero effettivamente vuoti quali disponibili abbiamo assunto un impiegato dedicato a tempo pieno che sta rispondendo in maniera secondo me più adeguata a quelle che sono le esigenze della cittadinanza per cui su questo secondo me abbiamo fatto un buon lavoro al di là di quello che possono dire poi le opposizioni ci hanno chiesto anche un montascale dove c'è una salita molto ripida e quindi gli anziani fanno difficoltà a salire al cimitero sempre sì sempre al cimitero di questo se non è arrivata anche qui una segnalazione c'è in effetti una scalinata interna non è ripidissima non è lunghissima però magari forse qualcosa si può valutare che ha difficoltà di ambulare sì sono pochi gradini adesso se non ricordo male che separano i due piani del cimitero però magari vediamo se in futuro si potrà fare qualcosa ci scrive la società Fossombrone Fuzzal Junior riguardo al calcio A5 non è meglio costruire un piccolo palasport per poterci allenare dentro al posto di prendere freddo e prendere anche l'influenza giocando all'aperto siamo l'unica società senza un campo da gioco definitivo riusciamo ad aiutare questa società e tutti i giocatori magari li invito a contattarmi anche in privato in modo che si possa ragionare un bel incontro perché no sì sì assolutamente sicuramente serviranno insomma dei fondi importanti in questo senso però più che la realizzazione di un nuovo campo magari la copertura di un campo persistente potrebbe essere anche un investimento non eccessivamente impegnativo e neanche lunghissimo passiamo alla frana di Calmazzo Sindaco sì dovremmo avere anche in questo caso delle foto che si riferiscono ecco qua alla frana allora nel 2007 a causa di un peggioramento le abitazioni sovrastanti e i videoroscivolari no? via parti consistenti dei loro terreni di pertinenza lo avete spiegato anche voi in tutte le pagine del comune per ripercorrere un po' quella che è stata la storia con l'accordo di programma del 2007 la regione e la provincia stanziarono 105 mila euro ognuna per finanziare il progetto di messa in sicurezza per un totale di 210 mila il progetto però è rimasto solo sulla carta fino a un mese fa per cui ci sono degli sviluppi Sindaco sì ci sono degli sviluppi anzi posso dirti che i lavori sono quasi ultimati proprio in questi giorni noi io non ero personalmente a conoscenza dico la verità di questa situazione l'abbiamo ce l'hanno segnalato i cittadini dopo il nostro insediamento per cui un paio di consiglieri un assessore hanno preso in mano la questione si sono rivolti e indirizzati più volte alla regione proprio per sollecitare questi lavori perché questi fondi nel frattempo non essendo stati investiti erano stati utilizzati altrove dirottati su altri investimenti e come dico il susseguirsi di interventi a forza di tormentare diciamo così i tecnici regionali siamo riusciti a far modo che la regione ripristinasse questi fondi anzi in questo caso sono stati necessari circa 320 mila euro sostanziati quindi più di quello che era in precedenza i lavori come dico sono iniziati qualche settimana e poi sono prossimi alla conclusione e questo ovviamente ci fa piacere bene quindi insomma cercheremo poi di seguire anche la vicenda nei prossimi giorni quando verrà riaperta la scuola di Calmazzo? la scuola di Calmazzo è un crucio nel senso che noi per fortuna anche dal punto di vista del covid le nostre scuole erano quasi tutte idonee sono stati necessari alcuni interventi in alcuni più importanti in altre scuole inferiori però di fatto sono tutte utilizzabili tranne appunto Calmazzo una scuola molto piccola che non aveva gli spazi necessari per rispondere alle nuove normative e attualmente gli ragazzi di Calmazzo sono stati trasferiti nel plesso scolastico di Fossombrone sono comunque ecco questo volevo precisare lo sanno i familiari comunque sono rimaste le classi invariate con le stesse insegnanti i stessi compagni per cui non c'è stata diciamo una dispersione nelle altre sezioni nelle altre aule sono rimasti come erano però abbiamo cambiato la location allora lì la scuola di Calmazzo presenta criticità anche dal punto di vista sismico qui se permetti volevo aprire una parentesi proprio da questo punto di vista sì assolutamente perché ci hanno proprio chiesto maggiori informazioni su questo ecco quello che voglio sia chiaro è che l'amministrazione non ha nessuna intenzione di chiudere definitivamente la scuola di Calmazzo ci mancherebbe altro non ne vedo il motivo peraltro sarebbe anche stupido a livello politico a pochi mesi dal mandato avessi anche solo voglia di avere un consenso diciamo così abbiamo dovuto farlo perché non c'erano alternative però ribadisco quella scuola deve riaprire lì noi abbiamo fatto diverse richieste per appunto adeguamento sismico non solo della scuola di Calmazzo ma anche di altre scuole eravamo in graduatore con i nostri progetti progetti che sono stati ufficialmente ammessi a finanziamento praticamente parliamo di 200 mila euro per la scuola di Calmazzo a cui si aggiungono 40 mila di cofinanziamento del comune altri 200 mila euro per la scuola di Borgo Sant'Antonio anche qui altri 40 mila euro da parte del comune di Fossombrone per la scuola di Isola di Fano 700 mila euro e sono i soldi che ci hanno stanziati e qui la nostra compartecipazione è di 150 mila per cui parliamo di un totale di 1 milione 330 mila euro di cui 1 milione 100 arrivano dal ministero e gli altri li mette il comune sono lavori che devono essere fatti sono lavori che andavano fatti anche in precedenza in realtà perché dal 2013 che le scuole andavano sottoposte ad un'indagine sismica che mai era stata fatta noi l'abbiamo fatta queste sono le risultanze i progetti li abbiamo fatti abbiamo ottenuto dei fondi per cui i lavori mi auguro che possono partire quanto prima andiamo a parlare appunto della scuola di Isola di Fano perché sono stati ultimati i lavori per l'ampliamento del giardino anche qua forse abbiamo qualche scatto vediamo se riusciamo a recuperarlo e anche la realizzazione appunto di un nuovo accesso a norma anche per i diversamente abili un bel risultato sì un lavoro importante perché in quella scuola l'accesso era praticamente concentrato su quella che è la strada principale che attraversa il paese per cui è una strada anche abbastanza trafficata nonostante Isola di Fano chiaramente non abbia il traffico che può avere Roma però comunque è una strada che specialmente l'ora d'ingresso che è poi quella in cui anche le persone vanno al lavoro è abbastanza trafficata oggi i ragazzi possono accedere da questa entrata secondaria che come dicevi tu prevede anche lo scivolo per i diversamente abili il giardino ancora è interrato chiaramente come vedi dalle fotografie la semina aspetteremo la stagione adeguata però poi avranno anche uno spazio oltre all'uscita a norma e aggiuntiva avranno anche uno spazio verde molto maggiore e molto più diciamo fruibile rispetto a quello attuale parlavamo prima di frane prima di andare in diretta mi ha contattata una signora chiedendo informazioni per via Sant'Anna del Furlo perché c'è ancora questa frana e la strada è interrotta sì qui ha ragione le chiedo scusa già l'ho fatto su Facebook perché comunque lì siamo in ritardo io speravo di riuscire a farlo nello scorso anno poi in realtà tra i tempi di approvazione del bilancio che sono andati per le lunghe tra l'emergenza Covid che come ti dicevo inizio e rallentato i nostri lavori abbiamo perso diversi mesi però posso assicurarle anche se non vorrei sbilanciarmi perché poi sarebbe l'ennesima volta in cui lo faccio che comunque quei lavori sono veramente imminenti contiamo che siano finiti entro l'anno bene hanno contattato la regia per chiedere a che punto è lo spazio per i disabili nella via del Vescovado oh lì una questione un po' particolare perché in quella via in realtà ho fatto un soproluogo personalmente con i vigili urbani dopo che mi avevano segnalato questa situazione e lì in particolare c'è l'esigenza di una persona con disabilità per accedere alla messa praticamente della domenica sera in cattedrale e in realtà non so se riusciremo a realizzare un posto riservato perché in realtà realizzare un posto per disabili significa che potrebbe accedervi qualsiasi disabile per cui non è detta che poi creando un parcheggio per disabili sicuramente togliamo un posto ai residenti ma non creiamo la garanzia per questo signore di poter accedere alla chiesa per cui stiamo valutando eventuali altre soluzioni ribadisco non credo che realizzeremo un posto a disabili perché ribadisco non sarebbe la soluzione ottimale per quel caso che ci hanno segnalato lì molto e purtroppo ahimè come spesso accade è demandato all'educazione della gente c'è un portone al quale si accede all'ascensore per salire dentro la chiesa basterebbe che le macchine parcheggiassero in maniera adeguata in modo tale da consentire l'accesso di questa persona e dell'accompagnatore perché c'è un divieto di sosta in quel caso non c'è non c'è un divieto di sosta però c'è un portone lì è evidente che non bisogna parcheggiare lì ci vorrebbe un vigile presente faremo una segnaletica diversa sperando di riuscire appunto a risolvere la situazione in questione ci appelliamo al buon senso dei cittadini principalmente questo vale sempre comunque verrà realizzato il nuovo Conad in via della conserva se sì come si potrà conciliare quest'ultimo con la nuova recente area archeologica presente in quel punto beh questo è un discorso che va avanti anche questo da anni noi abbiamo trovato un progetto che era già stato in parte iniziato dalla precedente amministrazione poi è intervenuta la sovrintendenza che ha dato dei vincoli nuovi per cui hanno dovuto rielaborare un progetto proprio a salvaguardia dell'area archeologica che tu mi dicevi per cui tutto il complesso slitterà un pochino più verso monte diciamo così rispetto a quello che era il progetto iniziale anche qui secondo me i tempi si stanno allungando a causa pandemia per cui siamo rilento però è una cosa che sta andando ancora avanti seppure con tempi piuttosto lenti ci chiedono lavori di asfaltatura sia il manto stradale delle cesane ma anche in via della conserva ecco facciamo il punto un attimo degli asfalti sono in programma avete già stabilito magari una lista di quelle che hanno una matore priorità diversi ne abbiamo già fatti dico la verità anche in alcune zone periferiche mi riferiscono sotto Ricella, Caspessa e altre adesso il prossimo asfalto importante sarà quello di via Corbiano che praticamente è una strada che collega una frazione di Fossombrone che è San Piero in Tambis al comune di Monte Felcino anche qui i lavori dovrebbero partire a breve sono 150 mila euro anche questi contavamo di farli in primavera non siamo riusciti ma anche questi sono veramente imminenti per quel che riguarda la strada della conserva no, non sono previsti proprio perché rientrerebbe in questa nuova costruzione dell'eventuale nuovo colad per cui aspettiamo di vedere gli sviluppi mi sembrerebbe buttare del denaro se poi lì andranno fatti dei lavori ancora più importanti come giustificate il notevole aumento delle tariffe per RSU pari al 30% a cui corrisponde un peggioramento dei servizi resi e una notevole perdita di percentuale sulla differenziata a cui corrisponderà anche un aumento di tariffa beh questo mi sento di smentirlo no perché la percentuale di differenziata per fortuna non è diminuita voglio far presente che circa un paio di anni fa è cambiato il sistema di calcolo della differenziata per cui chi mette questi dati sa benissimo che in realtà se ci fossero stati gli stessi metodi di calcolo le percentuali non sarebbero scese in realtà negli ultimi anni si può fare meglio lo dico sempre anzi si deve fare meglio però ribadisco il calo che c'è stato è stato motivato essenzialmente da un cambio di conteggio praticamente effettuato da parte dell'ASET in questo caso su disposizioni regionali e con la vecchia col vecchio metodo di calcolo la percentuale non sarebbe scesa viceversa con il nuovo metodo la percentuale sarebbe stata più bassa anche negli anni precedenti detto ciò comunque ribadisco si può fare meglio noi siamo andati di recente in ASET proprio per monitorare la situazione quest'anno il parziale fino a settembre nonostante il covid anche qui non dimentichiamo che le famiglie soggette a quarantena non possono differenziare i rifiuti vengono tutti messi in un unico sacchetto e poi smaltiti a parte per cui temevo che siccome poi nella nostra zona tante famiglie sono state nel tempo comunque soggette alla quarantena temevo che avesse potuto incidere in maniera pesante invece per fortuna almeno fino ad oggi il dato è positivo perché la percentuale ripeto dell'anno fino a settembre è intorno al 69% quindi comunque in aumento ma ripeto si può fare si deve fare meglio perché più aumenta la differenziata e più aumenta lo sconto sulle cotasse quindi sarebbe più bassa la tariffa per i cittadini va a vantaggio di tutti molti imprenditori scrivono stanno evitando di fare investimenti nel comune di Fossombrone perché sostengono che l'ufficio tecnico sia completamente bloccato e a conoscenza di questo sindaco soprattutto è così? Beh oddio anche qui sicuramente qualcosa di meglio si può fare chiaramente c'è un ufficio anche qui soggetto a pressioni è dovuto gestire delle situazioni di progresse veramente molto complesse molto delicate l'impegno è assolutamente massimo perché vi assicuro che è una persona che lavora ben oltre che l'orario normale d'ufficio per cui sta cercando di fare il massimo ribadisco anche lì è un settore sul quale stiamo cercando di intervenire e di potenziare anche il personale perché effettivamente le incombenze sono tante rispetto a quelle che sono le risorse umane C'era arrivata un'altra telefonata per dire che in zona mosse c'è un attraversamento pedonale di fronte all'edicola molto pericoloso perché le auto sfrecciano ad alta velocità il cittadino ricorda anche che quel passaggio è molto utilizzato specialmente da dopo che si sono insediati degli studi medici è possibile installare chiede dei dossi artificiali ma anche dei dissuasori di velocità nelle immediate vicinanze Allora questo problema delle auto che sfrecciano c'è non solo lì ci sono lungo la strada principale che è la via Flaminia sostanzialmente che attraversa la città in alcune frazioni in particolare mi riferisco a San Martino piuttosto che a San Lazaro lì effettivamente la velocità forse senza forse è troppo sostenuta e anche qui mi appello al buon senso degli automobilisti perché comunque non siamo in un tracciato di Formula 1 ma attraversiamo dei centri abitati nel caso specifico quell'attraversamento l'abbiamo creato noi luminoso qualche ormai un paio di anni fa se non erro perché non c'era prima abbiamo messo appunto queste righe queste strisce che si illuminano al passaggio di un pedone già siamo intervenuti in termini di sicurezza mettere dei dissuasori non è semplice intanto quella strada è provinciale non è comunale però il problema dei dissuasori dossi sono soluzioni che possono creare problemi alla viabilità stessa mi riferisco al transito di ambulanze di mezzi di soccorso di pullman di camion di motociclisti che potrebbero quindi non è facilissimo rallentare posizionando tant'è che non ci sono nella zona mi pare a parte in alcune vie secondarie lungo le vie principali stiamo ragionando perché ribadisco intanto abbiamo fatto aumentare i controlli con gli autovelox quello sì specialmente in queste strade che ti dicevo prima dove facciamo dei controlli perché effettivamente servono non tanto per multare ma per fare da deterrente a chi preme troppo la tavoletta del gas siamo dei proprietari di case in campagna Montalto siccome la strada da Casal San Sergio a Montalto è sempre disastrata polverosa piena di buche in questo caso è prevista la spazzatura adesso direi in questo momento no però magari ribadisco in questi casi queste segnalazioni spicciole invito i cittadini a contattare direttamente l'ufficio tecnico l'assessore vedremo quello che sarà possibile fare per la cittadella sono previsti interventi è la zona più bella di Fossombrone ma andrebbe anche valorizzata intesa come la Rocca o altro in generale non lo specifica ma non so se si riferisce alla Rocca questa non so se hai detto è stato oggetto anche di polemica anche questo tanto quello che si fa chiaramente è sempre oggetto di polemica da noi inevitabile ma non credo in questo caso dice che è in una bella zona non mi riferivo a questa comunicazione lì ecco adesso no cose particolari sul quartiere cittadella no se si riferischi invece alla Rocca lì stiamo ragionando perché effettivamente quella andrebbe un attimino quanto meno ripulita l'area sì ribadiscono ancora su via Rossini non era non era in programma di asfaltarla insomma era finito il catrame ci sono queste sì ma sono in corso in asfalti nelle vie interne proprio in questi giorni allora andiamo su perché ci stanno scrivendo ancora i cittadini di Calmazzo attendono ancora una risposta ufficiale alle richieste regolamente protocollate vediamo riferito a che cosa intanto questa l'avamo fatta l'aggiornamento sui lavori di adeguamento sismico della scuola primaria poi motivazione per cui non hanno avuto risposta alle due richieste protocollate in comune sempre inerente alla scuola primaria di Calmazzo circa due mesi fa non avete ottenuto le risposte alle due richieste protocollate in comune forse residenti non so ci spieghi meglio perché non riusciamo non riesco a capire bene qual è la seconda domanda no probabilmente quello che ti dicevo prima la scuola quando ci siamo visti con i residenti in luglio se non ricordo male ancora queste somme non erano stanziate non erano stati sbloccati definitivamente i fondi del governo che come ti dicevo invece proprio al 22 di settembre è arrivato il decreto per cui ribadisco ci sono 240 mila euro pronti per l'adeguamento sismico di quella scuola per cui appena possibile rifremo sperando che ripeto lì il problema non era tanto il discorso sismico ma legato all'emergenza covid anche qui i viali della Flaminia sono rovinati fino al bocciodromo e quindi è bene sistemarli anche in questo caso un suggerimento sì le cose da fare sono tante per carità però posso già anticipare che invece c'è un investimento importante parliamo di 350 mila euro se non erro per il rifacimento del lato proprio del viale al quale fa riferimento questo ascoltatore diciamo il viale che va da Portafano fino all'incrocio con Via Don Bosco praticamente il lato dove c'è la caserma dei Carabinieri per intenderci e questo sarà oggetto di ristrutturazione come già Via Don Bosco per cui anche lì un pezzo alla volta stiamo rifacendo un po' tutto Fossombrone è invasa da escrementi di cani piccioni perfino nei portici sostanzialmente ci chiedono se si possa fare qualcosa se non si è ora di elevare delle sanzioni anche nei controlli dei proprietari per quel che riguarda i cani anche qui torno al discorso di prima oltre alla bonifica sì per quel che riguarda i cani chiaramente mi appello al buonsenso all'educazione dei proprietari perché è vero che i vigili intervengono fanno controlli anche preliminari nel senso che no può essere sanzionabile anche chi conduce un cane senza avere con sé il sacchetto quanto necessario per raccogliere le deiezioni per cui da quel punto di vista stanno in asprendo un pochino i controlli però è chiaro che non possiamo monitorarli tutti contemporaneamente per cui lì deve essere il proprietario a raccogliere eventuali bisogni del suo cane su quel che riguarda i piccioni c'è una cattura in corso che sta andando avanti ormai da diversi mesi come l'anno scorso per cui stiamo cercando di tenere sotto controllo la popolazione è chiaro che il problema non può essere risolto in maniera definitiva ma calmierato anche sul discorso piccione abbiamo commissionato ad Aset qualche mese fa una pulizia straordinaria delle vie del centro storico cosa che probabilmente cercheremo di rifare a breve è una sala polivalente per eventi è prevista? su questa non mi sbilancio ma c'è qualcosa che bolle in pentola non ci può svelare nulla? no, è un progetto ambizioso sul quale preferisco diciamo non lontana dal centro storico ok siamo lì vicino i bagni pubblici invece ci hanno chiesto di tenerli aperti durante il mercato ma se fosse possibile anche per tutta la settimana per dare un servizio in più questo abbiamo deciso purtroppo la chiusura sempre in virtù dell'emergenza perché sanno che le attuali normative prevederebbero anche una sanificazione periodica addirittura anche ogni tot clienti o tot utenti diciamo così cosa che al momento non siamo in grado di garantire peraltro vicinissima a quella zona ci sono comunque due attività due bar perché potrebbero tranquillamente fare fungere insomma per questo scopo allora andiamo avanti parliamo ecco qua andiamo avanti allora con le segnalazioni poi vado avanti con le mie domande sono una signora di Fossombrone chiedo se è possibile sistemare le scale del cimitero perché sono tutte storte e sbullonate sto parlando della zona in alto dove c'è l'entrata dietro io e i miei defunti li ho all'ultimo piano devo capire che c'è un po' di paura di cadere insomma leggiamo i messaggi in diretta a volte non sono molto corretti però il problema l'abbiamo capito questo lo farò presente all'ufficio competente perché noi abbiamo una ditta che gestisce l'appalto dei servizi cimiteriali per cui faremo presente la cosa altre domande per lei cosa pensate di fare con la casa di riposo di via Torricelli ecco questo si si collega un po' al discorso che facevo poco fa per cui ci stiamo lavorando vediamo se riusciamo a portare avanti ribadisco un progetto importante che potrebbe riguardare proprio quella struttura in via Mauro Saraceni in via Europa possono previste le potature delle piante che macchiano e sporcano tutte le soglie delle recinzioni con le bacche oppure possiamo anche permetterci di eseguire le potature con un nostro giardiniere di fiducia beh no in quel caso rischierebbe la multa sì va chiesta comunque l'autorizzazione credo sia purtroppo procedere la potatura non può essere fatta in qualsiasi periodo dell'anno questo è il periodo ottobre novembre per cui qualcosa faremo noi come operai del comune Sindaco c'è chi chiede anche che cosa farà poi dopo la fine del suo mandato in che senso se ha comunque deciso di ritornare in campo stiamo lavorando stiamo ragionando con il gruppo perché comunque è un'esperienza questa tanto affascinante quanto impegnativa sto facendo valutazioni anche di tipo personale non solo politico amministrativo perché comunque è un impegno veramente H24 7 giorni su 7 per cui a breve dovremo sciogliere le riserve però ancora manca qualche mese quindi ancora prende un po' di tempo per riflettere assolutamente considero la chiesa di San Francesco la più bella chiesa di Fossombrone dopo quella di San Filippo nonché la più interessante chiesa neoclassica eccetera il Duomo non so se tanti molti cittadini neanche sanno come si chiama vediamo se arriviamo alla domanda no la invito comunque a scriverci magari delle domande un po' più brevi senza inviarci delle foto di messaggi così riusciamo poi anche a comprendere bene la sua richiesta come è possibile pagare 600 euro di italia all'anno in una casa grezza senza nessun progetto di inizio lavori fino al 2013 abbiamo pagato 300 euro e l'aumento da che cosa è dovuto? beh qui il regolamento Tari è vero che ogni comune ha le sue sfaccettature ma ci sono delle regole nazionali per cui l'unico modo per non pagare la Tari è che quella casa non abbia né utenze né mobiglia per cui la invito a prendere contatti con l'ufficio tributi per vedere se il suo caso può essere oggetto di agevolazione sconti ci dobbiamo fermare per qualche istante di pubblicità e poi torniamo per leggere gli ultimi messaggi a tra poco bene bene siamo tornati in diretta con il sindaco Bonci allora sindaco vorrei sapere dal sindaco appunto a che punto è la questione Rens possiamo dare un aggiornamento su questo ci sono degli sviluppi ma guarda grosse novità no non ce ne sono nel senso che ormai lì c'è un contenzioso aperto da diverso tempo io in occasione della prima ondata della pandemia ho chiesto alla regione di poter utilizzare quella struttura per ospitare eventuali pazienti covid all'epoca mi dissero che i tempi erano troppo stretti per poterla mettere a norma diciamo così vediamo se vorranno fare qualcosa questa è un'opzione sempre valida anche in questa nuova seconda ondata diciamo così quello che è certo però che quando noi ci siamo insediati abbiamo detto che avremmo fatto di tutto per vedere una soluzione a questo problema REMS che era comunque per noi un problema per la città sta di fatto che a distanza di 4 anni la REMS non è ancora aperta e ripeto noi a questo progetto c'eravamo posti fin dall'inizio e il risultato che abbiamo ottenuto è che ribadisco ancora lì non ci sono gli ospiti che dovrebbero detenere non almente anzi c'è una REMS provvisore in un altro comune della provincia io mi auguro che a Fossombrone non venga mai realizzata su questo ci siamo battuti fin dall'inizio ribadisco da 4 anni a questa parte quella struttura di fatto non è ancora aperta ci chiedono sempre per gli asfalti la zona di San Cristoforo di Valli e poi da zona Barco a San Gervasio anche queste magari le mettiamo nella lista di quelle che le abbiamo segnalate sì, magari ecco ripeto invito i cittadini a segnalare queste situazioni all'ufficio tecnico con l'assessore di riferimento cercheremo ripeto di portarle avanti le stiamo facendo un po' alla volta e piano piano devo dire che abbiamo ereditato da quel punto di vista una situazione molto pesante c'erano anni che venivano effettuati rattoppi per cui invece noi siamo intervenuti sempre con asfalti nuovi, approfonditi più costosi ma almeno più duraturi per cui ecco segnalino ben volentieri le situazioni di criticità andremo a verificarle poi vedremo come intervenire Prima di andare avanti per leggere gli ultimi messaggi dico che durante la pausa dalla regia mi hanno riferito che hanno chiamato diversi cittadini per ringraziarla delle risposte che ha dato anche persone diversamente abili Grazie a te Dopo danni dal sisma 2016 spero che il comune anche se non è proprietario solleciti stanziamenti per restaurare la chiesa di San Francesco perché sospetto che sia finita nelle mani della FEC abbiamo visto che fine ha fatto Santissima Annunziata col FEC ringrazio il cittadino perché gli avevo chiesto di inviarmi appunto questo messaggio corretto guarda su questa chiesa noi abbiamo fatto ho emesso due ordinanze per la messa in sicurezza perché c'erano state anche delle diciamo delle cadute di calcinacci lungo la strada e anche in un vicolo adiacente so che di recente se non sbaglio poche settimene fa c'è stato un sopralluogo da parte dei tecnici sia della prefettura che della diocesi per cui mi auguro che anche lì qualcosa si muova a breve però è una cosa che non compete strettamente al comune per l'area forse l'area ex FEMA che è da anni in completo abbandono quale è futuro? beh quella è un'area privata ci sono diverse iniziative in corso da parte dei proprietari dei vari immobili però questo ribadisco è una cosa non di pertinenza comunale perché è un'area appunto ripeto privata richiedono anche di dare una sistemata nei giardinetti pubblici vicino al palazzetto quindi quello è un altro dei lavori importanti che andremo a fare perché anche lì abbiamo stanziato 250 mila euro ed è uno dei lavori che andremo a fare massimo entro la primavera marminti dei giganti ci sono tantissimi turisti insomma eccetera con una scarpata pericolosa come passaggio che cosa si prevede? si può fare qualcosa per la vista in sicurezza in questo caso? quella intanto ecco devo dire che quest'anno c'è stato un vero e proprio boom di turisti in quell'area è stata veramente meta di tanti turisti forse proprio grazie paradossalmente al covid hanno preferito le marmite dei giganti piuttosto che magari altre zone tipo all'estero ed è una zona che ha attirato veramente tanti turisti da tutto il centro Italia non solo quindi è chiaro che qualcosa va fatto perché deve essere resa più fruibile più sicura di quanto non sia ora abbiamo fatto diversi sopralluoghi abbiamo parlato anche con alcuni residenti con associazioni della zona per vedere come intervenire perché ribatisco è una zona che ha poche uguali nel centro Italia e quindi va valorizzata con la collaborazione non solo dell'amministrazione ma anche dei cittadini che vogliono e proprio la settimana dieci giorni fa è stata una riunione di quartieri in cui sono offerti di intervenire per creare sentieri tenerla pulita per cui vedo molto interesse anche da parte dei cittadini la cosa mi fa piacere che cosa ne pensa il comune per l'eventuale pista ciclabile nella ferrovia chiedono anche se si possa pulire un po' la zona perché ci passano tanti pedoni intanto questo posso dire che in questi giorni è proprio in corso una pulizia da parte straordinaria da parte di RFI lente ferroviario che stanno ripulendo infatti proprio oggi il referente mi ha mandato delle fotografie in cui mi ha fatto vedere che i lavori sono iniziati per cui la pulizia è già in corso sulla ciclabile chiaramente un progetto che va avanti ormai da diverso tempo di cui se ne parla questa pulizia potrebbe essere un propedeutico all'realizzazione di una ciclabile però ricordo che la ciclabile è un progetto della vecchia amministrazione regionale non so la nuova cosa ne pensa io personalmente anche perché adesso insomma l'attenzione si sta concentrando sull'emergenza sanitaria in questo momento ci sono altri problemi chiaramente più importanti vediamo poi ripeto la giunta nuova regionale cosa deciderà in merito io personalmente è una mia idea ma preferisco non espormi perché è un tema molto divisivo questo della ciclabile e della ferrovia asfaltatura di piazza Don Luigi Sturzo e poi anche della strada fra Fossombrone e Calmazzo quindi continuano i cittadini a chiedere queste asfaltature si potrebbero avere più controlli del territorio soprattutto di notte più forze dell'ordine che girano nella città anche per cercare di prevenire delle situazioni spiacevoli noi per quel che riguarda i vigili abbiamo implementato l'organico da 4 a 8 elementi cosa che ci consente di fare anche dei turni serali che prima non si potevano realizzare con pochi agenti questo però li abbiamo concentrati soprattutto durante il fine settimana i carabinieri devono presidiare non solo la zona di Fossombrone ma anche l'imitrofe io quello che dico ai cittadini è quello di segnalare immediatamente eventuali cose che non vanno chiamando perché comunque questo è l'unico strumento che ci consente di essere tempestivi pensare di presidiare e di capire anche che cosa non va o cosa può essere migliorato a volte qualcuno è un po' timoroso nel chiamare i carabinieri piuttosto che invece invito tranquillamente a farlo poi ecco se riescono a intervenire che sono in zona lo fanno subito altrimenti comunque la chiamata viene presa in carico però ecco piuttosto che segnalare o avvisarmi il giorno dopo o fare dei post su Facebook sono inutili se c'è qualcosa che non va chiamare subito e vediamo poi e loro vedono in base a quello che è la loro situazione come e quando intervenire vorrei chiedere se è possibile mettere un bidone per la raccolta dell'olio esausto e se è possibile anche ripristinare la raccolta differenziata dei materiali ingombranti tramite ASET presso la zona del parcheggio Ex Buca grazie per la disponibilità e poi specifica l'olio esausto presso il parcheggio del Bocciodromo allora guarda lì sul discorso di raccolta differenziata sì c'è un discorso di più ampio respiro nel senso che anche pochissime settimane fa sono stato qua a Fanno in ASET proprio per parlare con i dirigenti per la realizzazione di un centro di raccolta differenziata permanente come quello che c'è a Colle al Metauro per intenderci siamo allo scambio dei documenti cominciamo a lavorarci mi auguro che questo nel giro di qualche mese possa essere pronto anche a Fossombrone a zona industriale San Martino del Piano quindi una zona molto fruibile anche per non solo per Fossombrone ma anche per i comuni limitrofi mi riferisco a Montefelcino piuttosto che Isola del Piano scelta volutamente perché comunque ripeto un'ubicazione strategica anche verso gli altri comuni mi auguro che nel giro di qualche mese se operative lì poi potrà raccogliere tutti i tipi di rifiuto per quel che riguarda il centro della raccolta del sabato mattina la buca lì era stato diciamo depotenziato il servizio perché si era creata una situazione potenzialmente pericolosa troppi utenti erano costretti a usare strumenti come il ragno meccanico per raccogliere non era quella la finalità per cui hanno ridotto quel servizio contestualmente adesso in questi ultimi tempi abbiamo chiesto di potenziare la raccolta a domicilio che effettivamente aveva subito dei rallentamenti e da qui a fine anno aumenteranno le raccolte a casa quindi gli ingombranti invito i cittadini ovviamente anzi invoco la collaborazione dei cittadini affinché non scarichino gli ingombranti altrove perché comunque il centro della calcinella è sempre operativo l'ASET viene a casa per cui se magari ha i suoi tempi un dono selvaggio non è assolutamente giustificato e ripeto quanto prima mi auguro nel giro di pochi mesi che sarà operativo anche il centro di raccolta permanente fisso ci stanno arrivando dei messaggi per ringraziarla anche Nicola che insomma le augura una buona serata sindaco purtroppo siamo in chiusura quindi mi dispiace per non riuscire a leggere tutti gli altri messaggi però visto che stiamo vivendo questo periodo così difficile che cosa si auspica è un periodo veramente difficile che tra l'altro mi ha colpito anche personalmente qualche mese fa però è veramente impegnativo un fronto quotidianamente che con gli altri sindaci stiamo veramente vivendo una situazione di grosso stress emotivo perché poi molte cose non sono sotto la nostra competenza il cittadino giustamente ci vede come punto di riferimento a volte ci sentiamo anche impotenti io ecco quello che intanto tanti auguri buona fortuna a tutti questo è il minimo che si possa fare però ognuno deve fare la sua parte per cui queste misure di prevenzione la mascherina io vedo purtroppo ancora molta gente in giro che fa fatica a tirarla su la tiene sotto il mento che non serve a niente tenerla sul naso non penso che comporti chissà quali danni se ci dicono di portarla dobbiamo portarla quindi rispettiamo le normative e che Dio ci aiuti grazie di nuovo al sindaco Gabriele Bonci di Fossombrone grazie anche alla nostra regia Riccardo Sora e Cristiana Guerra buona serata a tutti voi a domani grazie sindaco grazie a te grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti